Allora, buongiorno a tutti, grazie della possibilità di parlare a questo incontro. Io parto da una cosa un po' angolata forse rispetto a quello che abbiamo sentito fino adesso perché volevo porre l'accento sulle questioni della comunicazione. Quello che vedete davanti a voi è la copertina della Domenica del Corriere del 1976, una quarantina d'anni fa. E da lì è partita questa leggenda, non solo metropolitana, ma una leggenda molto diffusa che appunto è quello che sapete, insomma, che le vipere erano portate contro le attività venatorie in campagna, eccetera, eccetera. È una leggenda che ancora esiste. Noi abbiamo parlato di dati, cose scientifiche, mi devo mettere su tutto. I dati, cose scientifiche, dettagli molto interessanti, ma abbiamo una gran parte, la maggioranza direi, di persone che abitano il nostro paese che stanno su questa latitudine culturale. Dopo una quarantina d'anni ho messo a destra, non so se si riesce a leggere, quello che ha fatto il sindaco di Verona, Flavio Tosi, che praticamente con un'ordinanza autorizzata a sparare i lupi. Adesso io non voglio aprire, erano due lupi, c'erano due lupi. Non voglio aprire il tema, però insomma, per dire che la temperie culturale in cui noi siamo calati non è molto cambiata dalla Domenica del Corriere. La Domenica del Corriere all'epoca tirava un milione di copie, quindi da lì partiamo. Immagini che poi si sono diffuse anche in Francia, questi sono dei disegni che ci dicono quello che si pensava allora e che in gran parte si pensa ancora adesso. Noi abbiamo un margine molto stretto per la comunicazione, un margine molto stretto che è quello iper specialistico che in qualche caso anche stamattina abbiamo giustamente sentito in un'assemblea come questa, dove ci stanno degli ottimati, ci stanno degli specialisti e poi quello un po' disneyano che passa spesso anche in televisione. Con qualche giusta e ottima deroga anche in televisione qualche volta si assiste a cose un po' più interessanti. Però il nostro maggiore produttore culturale, la televisione, molto spesso è un alleato di quell'analfabetismo di ritorno di cui volevo rapidissimamente accennare. Questa è un'analisi che ha fatto Tullio De Mauro, linguista, è stato anche ministro qualche anno fa e c'è un bellissimo libro sulla cultura degli italiani e questa frase che sono certo che a noi tutti stamattina, il gatto miagola perché vuole il latte, è una frase normale, banalissima, praticamente così intera è capita nel suo significato esatto da un terzo degli italiani, il 5% non capisce il gatto miagola. Cioè noi ci dobbiamo rapportare, lo so che sono dati che sembrano strani, ci sembrano strani a noi però poi dopo uno vede, non so, tanto per parlare della televisione, una puntata di Un giorno in pretura che va a mezzanotte e ci stanno delle persone che hanno ammazzato delle altre persone, quando il giudice gli chiede perché uno si rende conto di quanto sono modeste le capacità culturali di queste persone e stiamo così. Allora facciamo un salto, anche noi in Regione abbiamo fatto diversi live, abbiamo lavorato su un live che si chiama Cismon e abbiamo lavorato sui cittadini scienziati, sulla citizen science che abbiamo cercato di, dopo 40 anni, di abbandonare le vipere così come abbiamo visto prima e di coinvolgere tutti, compresi i bambini più piccoli, in una ricerca molto partecipativa in cui i bambini diventano, i ragazzi, gli studenti ma anche i loro genitori diventano effettivamente i protagonisti e quindi noi non diamo più delle informazioni ma sono loro che ce le danno. Qui ci stanno dei numeri di partecipazione che per brevità saltiamo, comunque sono dell'ordine di migliaia, abbiamo fatto un sacco di prodotti tipografici, abbiamo dato in giro Deblian semplici ma rigorosi dal punto di vista dei contenuti perché non è che la semplicità è grossolanità, la sintesi è molto più difficile e poi abbiamo fatto delle sedute sicuramente all'interno, al chiuso, però abbiamo portato questi bambini a vedere le cose a toccare, a fotografare, a disegnare, a respirare, cioè l'abbiamo portati in un ambiente naturale, esattamente il contrario di quello che dicono le pubblicità televisive che come il bambino tocca la terra poi bisogna sterilizzarlo e abbiamo avuto un discreto successo e poi abbiamo toccato dei temi anche un po' angolati, per esempio quelli che riguardano l'astronomia che vengono sempre un po' quasi messi da parte con delle iniziative, una nel 2016, una nel 2017 in cui hanno partecipato nei tre giorni e nei tre giorni circa 3.000 persone ogni volta e quindi coinvolti anche su temi che sembrano molto lontani, non solo in termini fisici. Abbiamo scelto anche un filone piuttosto ludico, per esempio attivando la partecipazione a una caccia dal tesoro in varie città d'Italia con questi ragazzini che andavano in giro divisi in squadra e facevano delle foto e ci sono state 1.500 segnalazioni l'ora, cioè è una cosa che ha messo a dura prova la capacità di analisi e di validazione dei tecnici perché poi queste segnalazioni naturalmente devono essere validate, non è che uno manda un dato così. Comunque su 5.000 e oltre come vedete totali le valide erano 4.700, quindi insomma è interessante. Da qui non vi faccio vedere ma sono discese 18 mappe tematiche con tutto quello che... e in qualche caso sono state trovate anche delle specie che non immaginavamo. la Regione Lazio è impegnata anche in altri progetti che hanno come denominatore comune la relazione diretta con le persone, con gli imprenditori, con l'economia, con coloro che lavorano sui luoghi perché se no ci saremmo arroccati in una specie di castello e parleremmo solo dei nostri dati. E per esempio questo è il marchio Natura in Campo che è un marchio che viene dato ai produttori locali, diciamo che hanno delle caratteristiche che noi riconosciamo e che offrono poi al produttore la possibilità di dotarsi appunto di questo marchio e di avere così validato, garantito la qualità del proprio lavoro in maniera certificata dalla Regione Lazio. Quindi diventa un qualcosa in più. Cioè un marchio, adesso si vede nell'entrata della macelleria, sta lì da una parte e poi c'è un capitolato preciso che dice delle cose. Naturalmente questo significa una serie di cose non soltanto dal punto di vista economico ma anche della relazione che si instaura tra il, diciamo, tra il fruitore, tra il pubblico, tra colui che va a comprare un servizio e quello che c'è dietro perché magari lo compra perché ci stanno delle cose che lui ricerca, quindi è una cosa di qualità. Lavoriamo anche su altri live, questo in particolare si chiama Destimed e è quello, diciamo, che vede due parchi italiani, Riviera da Luisse e il parco del Circeo insieme a altri partner che stanno nel Mediterraneo per definire, pianificare un'offerta ecoturistica per le aree marine protette. Diciamo che non c'è una base definita da questo punto di vista su uno standard qualitativo di sostenibilità che può caratterizzare, che dovrebbe caratterizzare l'offerta, diciamo, dei parchi marini mediterranei. Cose che ci hanno coinvolto, questo progetto è partito da poco e su cui stiamo lavorando. Due numeri, sono un po' datati come vedete perché sono del 2015, però diciamo l'ordine di grandezza non è molto diverso. Allora noi abbiamo tra le mani questi numeri, 100 milioni di presenze e 12 miliardi di fatturato. Su questo dobbiamo decidere che cosa fare perché i progetti di cui abbiamo parlato stamattina si inseriscono in questo filone. L'Italia, come sapete, dal punto di vista del turismo è passata ad essere il quinto paese del mondo. Eravamo terzi fino a qualche anno fa. La Cina ci ha superato. L'ecoturismo invece è in crescita. Il numero di visitatori in Italia è in leggera diminuzione ma l'ecoturismo è in crescita costante, qualche punto percentuale ogni anno. Noi abbiamo un patrimonio estesissimo dal punto di vista storico, archeologico, ambientale, da tutti i punti di vista. E si tratta di mettere a frutto, di valorizzare tutta una serie di cose che non stanno in rete. Se voi andate, non so, i castelli della Loira stanno in rete e i castelli romani no, per dire. Una domanda, qui devo definire i numeri, forse si vedono poco e ve li riassumo io. Coloro che vogliono andare, la domanda è se decidessi di trascorrere in una vacanza in un'area protetta dell'Asia. Come preferiresti partire? La risposta per i tre quarti è in maniera indipendente o col sostegno del parco. Poi c'è un 25% che rimane, che si affiderebbe alle agenzie di viaggio, a tour operator, eccetera. Quindi c'è una grande propensione a fare per conto proprio o affidarsi a un soggetto istituzionale, pubblico, come un parco che è visto in genere come un soggetto affidabile. Questa è un'altra leva che noi abbiamo a nostro favore perché ci potrebbe, ci rende evidente che possiamo avere dei margini di manovra molto ampi, molto ampi. Perché sui parchi il turismo che va in ambiente è un turismo più consapevole normalmente e con una propensione alla spesa leggermente maggiore di quello standard. Quindi da questo punto di vista abbiamo degli esempi soprattutto nell'Italia settentrionale di parchi che fanno delle cose veramente ottime. Il Lazio. Nel Lazio abbiamo quasi 100 aree protette, compresi i monumenti naturali, insomma quelli più piccoli. Quelli più grandi sono una quindicina. Noi abbiamo dei parchi di 30.000 ettari come i Simbruini che sono molto più grandi del parco del Circeo. Comunque 240.000 ettari tutelati da aree protette propriamente dette, non SIC, con i SIC arriviamo al 20%, al 20% del territorio. Le aree protette rappresentano circa il 13%. Questa è la carta geografica, la mappa, comprese le zone protette a mare. Quelli più scuri sono aree protette propriamente dette e gli altri sono a vario titolo, ZPS, eccetera. Come vedete c'è una concentrazione intorno all'anello del grande raccordo anulare, perché lì c'è la maggiore concentrazione di persone e lì c'è la maggiore concentrazione di richiesta di ambiente, se posso dire così. Poi le aree più appenniniche o più montuose stanno più lontane, eccetera. Ecco, allora qui intorno noi abbiamo un sistema di parchi, a cominciare da quello di Romanatura, che sta praticamente quasi tutto all'interno del grande raccordo anulare, che vanno a soddisfare la richiesta. Forse qualcuno di noi ricorderà che nel 2000 a un certo punto la politica regionale, venne un governatore, storace, venne, e c'aveva come obiettivo quello di tagliare i parchi, proprio tagliare i parchi dal punto di vista dell'estensione. Poi hanno fatto un questionario che hanno mandato ai cittadini, un gruppo selezionato. E la cosa che è uscita fuori è che tutti, non c'era distinzione tra destra, sinistra, elettori di destra, tutti volevano la loro fetta d'ambiente e quei parchi non sono stati più tagliati, neanche dalla destra. Quindi diciamo che è un tema sentito in maniera molto trasversale. apposta intorno a Roma ci stanno tutti questi parchi. Abbiamo fatto qualcosa che ce l'ho qua, un magazine sulla bicicletta, l'abbiamo fatto l'anno scorso e questo è il titolo, vi faccio vedere qualche foto perché diciamo uno dei partner concettuali della sostenibilità ambientale naturalmente è quello che va in bicicletta, non soltanto quello che va a piedi. Adesso vi sentito molto bello direi per visitare non solo i parchi, qui abbiamo una collega che sta sulle Ande oppure in Corsica, gente che passa le vacanze in questa maniera. Come dicevo la propensione alla spesa è maggiore anche per motivi organizzativi e noi su quello dobbiamo un po' lavorare. Oggi non è possibile perché qui quando c'è l'acqua alta, va bene, questa è la Sinara e va bene, insomma vi faccio vedere, queste sono ancora le Ande e qui stiamo ai Castelli Romani praticamente, questo è il lago di Giulianello per chi non lo conosce. Abbiamo fatto un'altra cosa, un progetto che è molto simile a quello di cui parliamo stamattina, anzi forse l'avete copiato voi e l'avete fatto bene, se l'avete copiato avete fatto bene, se non l'avete, che si chiama il Cammino Naturale dei Parchi, questo è il fronte retro di un Devlian e è un cammino che è stato ideato qualche anno fa e serviva per andare da Roma all'Aquila in maniera non diretta attraverso un percorso di 430 chilometri in 25 tappe, 42 comuni e 7 aree protette, 6 regionali e una nazionale. Questo percorso in volte, diciamo, toccate da questo percorso che come vedete è un po' altalenante ma serve per raccogliere, per incontrare le aree protette e questo è tutto mappato, tracciato con le tracce GPS scaricabili in vari modi dal sito, è tutto tabellato fisicamente sul territorio nei 430 chilometri e per ogni tappa c'è almeno, per quelle diciamo più di montagna, c'è almeno uno di posto dove mangiare dormire, ma nelle altre tappe ce ne stanno di più, per cui è possibile partire da Roma senza macchina proprio e andare all'Aquila. Ci sono state due persone che l'hanno fatto, questi ultratrailer, quelli che camminano, che corrono e l'hanno fatto in sei giorni, ma noi normalmente suggeriamo 25 e insomma poi c'è chi lo fa in solitaria e quindi si porta alla tenda e si porta da mangiare, noi facciamo una cosa normale, si può fare anche solo una settimana o anche solo un giorno, uno può pure fare una tappa in un giorno perché sono tutte studiate in modo tale che uno può poi dopo che ha fatto la tappa riprendere un mezzo pubblico e tornare dove ha lasciato la macchina o dove è partito, non lo so. La grande esigenza di questo tipo di percorsi non è tanto quello di disegnarlo come lo vedete qua voi, ma è quello di avere una serie di servizi lungo il tracciato, devono funzionare, cioè la tabellazione deve essere manutenuta, ma soprattutto ci devono stare dei posti dove andare a mangiare a dormire perché se no non funziona, noi possiamo fare il più bel progetto che ci sta, che ci viene in testa, ma se poi dopo la persona che va non trova il posto dove dormire, una volta dopo non funziona. Allora questo qui è un signore che rappresenta la municipalità di Copenaghen, l'ho tratto da presa diretta dell'8 gennaio, ci ho messo pure il minuto se qualcuno è curioso e dice una cosa interessante che cioè che negli ultimi anni, dieci anni, a Copenaghen hanno speso 268 milioni di euro in infrastrutture ciclabili. Poi alla fine non sono manco tantissimi che ho considerato che sono meno di 3 milioni di euro l'anno in infrastrutture e poi fa vedere i ponti, hanno costruito 17 ponti in dieci anni solo, pedonali e ciclabili eccetera eccetera e poi dice una cosa concettuale che è la filosofia diciamo di fondo, cioè un proverbio che noi sappiamo, non esiste l'uovo o la gallina c'è solo l'infrastruttura. Qui siamo al loop per cui non si fanno piste ciclabili per esempio a Roma perché non c'è gente che va in bicicletta, però non c'è gente che va in bicicletta perché non ci stanno viste ciclabili, stessa cosa per le automobili elettriche, tutto uguale. Allora se uno non comincia a investire non è che serve la campagna incentivante perché tu dici prendi la bicicletta, cioè io la voglio prendere la bicicletta, però dove passo? Non si passa, non ci sta un ponte sul Tevere per andare all'altra parte spesso se uno sta un po' a sud per esempio. Ecco allora qui bisogna semplicemente mettere a punto un sistema di infrastrutture che incentivi direttamente o indirettamente quello che può essere un percorso come quello che avete studiato voi. Vi do due numeri per chiudere, questo è uno speciale di Gazzetta Ambiente di cui sono condirettore, ma questo è un dettaglio e il titolo che ho cercato di evidenziare ve lo rileggo, ve lo leggo io, le ciclostrade, elementi fondamentali per lo sviluppo e il turismo sostenibile, il progetto del Politecnico di Torino eccetera. Allora questi numeri vengono dal Politecnico di Torino, non li dico io perché magari uno dice questo chi è, ma insomma del Politecnico e riguardano l'Avento che sarebbe la Venezia-Torino, 600 chilometri, non dico pronta ma certamente che non c'è bisogno o pochissimo di espropri perché diciamo le sponde del Po sarebbero lì. Finisco con questi numeri, ve li voglio leggere perché qua dei numeri poi non parla mai nessuno, dei nostri politici dico, ogni chilometro di percorso può generare un indotto annuo variabile da 150.000 a 250.000 euro, manco le autostrade producono una cosa del genere, manco le autostrade. Naturalmente stiamo parlando di indotto, cioè nel senso che il soggetto pubblico che realizza l'opera mette dei soldi. L'indotto ricade sul territorio, è chiaro, non è che torna, non è in piedaggio. Però quello naturalmente cambia il panorama dell'economia locale, cambia l'assetto sociale, cambia il modo di lavorare la quotidianità delle persone che stanno lì. Allora si diceva beh ma queste sono cose teoriche. No, questi sono dati che sono fermi, tra l'altro saranno anche migliorati nel frattempo, sono del 2014. I 7.000 chilometri di piste ciclabili della Francia producono 1,9 miliardi di euro l'anno. I 40.000 chilometri della rete ciclabile tedesca 9 miliardi l'anno. 9 miliardi l'anno. Allora questo significa che se Benetton l'avesse saputo invece di comprarsi le autostrade si comprava i piste ciclabili. Cioè, mi conveniva. Sì, certo, è una battuta. Però insomma, questo significa, questo significa. E credo che vi lascio con questi numeri. Grazie.